eccoci qua miei discepoli ben ritrovati torniamo a parlare di pini torniamo soprattutto per completare il video precedente della pulizia degli aghi come avete visto mi sono spinto oltre ho finito di pulire tutta la pianta e vi dirò di più oggi ho messo anche un sacco di filo ho rimpostato scusate ho la schiena che ormai è smaciullata e ho anche rimpostato un sacco di rami primari ho rifatto un po' di struttura ho sistemato un sacco di palchi perché ovviamente da video era bellissima era piena dava anche la sensazione di materiale bello maturo tutti i rami bu 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 bella piena però quello che si vede da video non è mai quello che si vede quando si ha la pianta di fronte soprattutto non è mai come quando si iniziano a spostare i palchi si inizia a guardare cosa c'è dentro quindi c'era un sacco di rami che tornavano indietro che riempivano rai molto lunghi poi vuoti dietro rami che andavano su a chiocciola in apice per andare a riempire mamma mia quella roba non la posso vedere e quindi come primo consiglio ragazzi di questo video è che se avete dei problemi sulla pianta quindi problemi di impostazione primaria di struttura prima li risolvete meglio essere perché sennò ve riportate ve li portate avanti ok all'infinito quindi quando sono problemi via un taglio e via quindi oggi ho potato tantissimo per quelli che mi dicono amo noi pini non si potano la potatura ecco qua questo è quello che ho tolto questo il 50 per cento di quello che ho tolto perché c'è oggi sono rientrato tantissimo ok andiamo a vedere intanto 360 gradi poi vi spiego due cose per quanto riguarda i palchi perché soprattutto sui pini ragazzi c'è tanto bisogno di far vedere gli aghi ok e legno sotto per andare a creare livelli per andare a creare la struttura primaria ok e per andare a far vedere la struttura quindi la vecchiaia quindi fate vedere sempre il legno quindi se avete un ramo che per carità ancora vi serve deve allungare perché la struttura primaria ok può scendere e lasciate scendere così come poi a un certo punto sugli aghi ok sugli aghi se avete una pianta femminile tipo questa gli aghi su così ok se invece avete un pezzo grosso maschile gli aghi su così ancora di più ok perché vi da ancora di più quella quella botta all'occhio mi fa capire che veramente sotto ci sono due coglioni così sotto ok quindi se volete fare design se volete fare veramente le cose fatte bene questa è la regola principale secondo me per far vedere bene la struttura dei pini perché se no è un marasma di aghi soprattutto gli aghi che stanno così no e quando vegeta tanto ci ritroviamo ad avere una pianta che la vegetazione va dritta così e va dritta così a un certo punto inizierà a soffrire quindi li tirate su per una questione di design li tirate su anche per farli prendere bene luce soprattutto per farli stare bene ok ogni ago deve avere il suo posto ok quindi quelli che stanno dietro se sono molto lunghi e dovete tirarli su portate indietro e tirati in su quando erano molto lungo e non c'è niente dietro fate soltare tutto ok completamente vi attacco un taglio e via si riparte con altri rami dietro la pianta farà altre gemme quindi per gli scettici se impostate bene i rami primari i pini li fanno le gemme cioè non so chi vi ha messo in testa sta cosa che fanno fatica tornare indietro tutte cazzate se concimate e la pianta prende luce dietro avete fatto un buon lavoro la pianta vi rivegeta tranquillamente quindi togliete tutto quello che non vi serve impostate fate in modo che prenda bene luce il palco certo punto vi farà un sacco di gemme dietro pulite con gli aghi vecchi e il butterà fuori vi riempirà a cupola tutti i palchi ok molto semplice molti ne parlano ma nessuno comunque sia secondo me riesce a capire bene come si impostano i pini e come si coltivano ok vedo che c'è un sacco di dubbi soprattutto per i neofiti una cosa per quanto riguarda la potatura ragazzi non è che non sapete come si potano i pini ok attenzione cioè un conto è dire non so potare un pino no è un conto non averci capito un cazzo cioè questa è la verità cioè non sapete potare la pianta perché non sapete come deve venire fuori cioè non sapete come dargli la struttura primaria cioè una volta che avete impostato i rami in automatico potate cioè quando vedete che ci sono degli aghi che vanno su o cosa li fate saltare via si arriva fino a una gemma cioè vi faccio vedere un ramo come questo ad esempio qui c'è una gemma cosa si fa saltare tutto ok questo salta tutto e si riva avanti si riparte con questo qui uguale se questo qui è troppo lungo si pota tutto e si rimane con la gemma qui l'importante che ci sia sempre una gemma forte dietro ok è la potatura è tutto qui cioè non è che ci vuole un genio perché molti dicono non so bene dove tagliare bisogna vedere cosa c'è dietro se non c'è niente non si può tagliare oppure si taglia tutto e si riparte con altri rami ok però per quanto riguarda l'impostazione primaria o sapete veramente cosa volete oppure è meglio che state fermi perché se no vi ritrovate soltanto a mettere del gran filo e riempire di rame sta cazzo di pianta per quanto riguarda il filo prima di chiudere molti stai chiedendo se è meglio utilizzare il rame o è meglio l'alluminio ragazzi per quelli come me non cambia un cazzo ok cioè non cambia niente per quelli come me l'importante che il rame sia di qualità che l'alluminio sia di qualità questo fa la differenza ok è l'importante poiché sapete mettere bene il filo fa le spirali bene non fate dei castroni esagerati soprattutto che filate soltanto le piante i rami che vi servono io addirittura ragazzi il diametro me lo invento ok io ho finito il 2 ho finito il 2 mm qui con rame oggi ho preso due fili da uno li ho rotolati così e ho usato quello cioè è una bestemmia non fatelo però io posso farlo cioè io ragazzi mi arrangio ormai ho la manualità so come deve venire fuori il palco so bene tutto quindi mi manca il filo me lo invento faccio lo faccio di qua di là a un certo punto la pianta esce fuori però un conto è parlare con un professionista un conto invece parlare con un neofita che ha bisogno di avere tutte le misure magari capire bene un pochettino come come legare la pianta e soprattutto che diametro usare il diametro giusto da usare sui rami ok perché molto spesso si usa un diametro che troppo grosso e il ramo si rovina oppure si usa un diametro che troppo fine e il ramo non rimane in posa si muove domani oggi impostate domani ritorna indietro torna su torna giù un casino ok comunque come potete vedere ho pulito scusate la macchina ho pulito bene tutto ho sistemato ho riposizionato i primari così adesso sono pronto veramente per ripartire bene a bomba come voglio io come piace me quindi questa pianta adesso tutte le carte in regola per diventare una bestia ok un super master una pianta della madonna quindi se avete problemi sulla pianta se c'è un'impostazione che è stata fatta male o dei rami che fanno dei giri strani no così bisce robe varie oppure che ne so delle spirali per tornare indietro non va bene che intervenite subito toglietevi il sassolino della scarpa cioè pulite e via lavoro fatto bene ragazzi vi consente di aumentare veramente il valore della pianta quando andate a rivendere sera mi sono fatti bene poi vabbè se la vendete a un rincoglionito che è pieno è lo posso garantire gente che non sa anche tra quelli bravi no quelli come io faccio borsa da vent'anni ragazzi c'è della gente che è vent'anni che fa bonsai e non ha un'idea di quel cazzo che sta facendo che eppure sono dei professionisti secondo loro e anche secondo gli altri è perché entrano nella nicchia di chi non sa un cazzo e quindi non sa non cazzo neanche loro però hanno anche loro la loro fetta di mercato chiuso qui il discorso ciao a tutti ci vediamo al prossimo video lasciate un mi piace condividete claudio bonsai.com per tutto quello che vi serve e adesso faccio un video speciale per quelli che sono abbonati al canale alla masterclass ok quindi abbonatevi se volete ulteriori contenuti e se volete partecipare alle masterclass che sono delle dirette private dove io vi aiuto ok ciao a tutti ragazzi